Grazie per il benvenuto, all'armotivi ero giocatore libero, vincolato, stavo cercando la squadra, mi piaceva tornare in Italia e quindi ho imparato con il mio procuratore e è venuta questa possibilità di venire a Arezzo e subito mi piaceva, subito mi sono chiesto sulla società e tutto e dopo tutto quello che ho sentito ero convinto di venire e poi quando sono venuto mi sono confermato questa cosa e subito da primi minuti con il direttore e con tutti intorno alla club ero convinto di venire e di anche tornare in Italia come ho detto. Sì ho fatto un po' visto la città già, anche quello io ho qua amici vicino quindi ho già saputo che Arezzo è una bella città e anche quello sicuramente perché porto la famiglia sarà importante, da parte calcistica mi è piaciuta l'organizzazione e tutto, anche i primi giorni, le prime settimane sono molto positive. Sì sì spero di trovarmi pronto, sicuramente ora sono rientrato in gruppo quindi sicuramente un settimana ci vuole un po' di no come si deve essere in gruppo, all'area a pieno però sarò pronto per la prima e spero di subito dare un contributo. No anche per la squadra ne ho promossa c'è un presidente da due o tre anni quindi sento anche quello che ho sentito c'è un progetto e piano piano si vuole andare avanti anche con il campo centro sportivo nuovo qua tutto si vede che il presidente della società ha questo progetto, non ha fretta diciamo e fa passi dopo passi e mi è piaciuto questo che appunto la squadra promossa in giro. In C vuole fare bene lì e poi si vede che si fanno altri anni però è importante ora di fare bella stagione. Vediamo ora neanche io non è che l'ho seguita in ultimi anni quindi anche per me sarà una novità ma io sempre più concentro su di me se c'è con Premier League o Serie C per me è importante stare bene fisicamente e stare bene poi stare bene anche in testa e poi il gol è sempre bello a farlo quindi non tanto conta dove ma è importante farlo. Quindi mi aspetto comunque un campionato difficile perché il girone anche per le squadre che ci sono mi sembra un girone molto molto difficile, duro anche per noi è bello subito di almeno vedere le nostre potenzionalità quindi penso tutti i ragazzi guardiamo avanti a iniziare il campionato. Sì i primi allenamenti con gruppo anche quello che mi ha spiegato mister può essere una cosa bella che ci sono due esterni e io mezzo diciamo col mio ruolo che mi è più vicino. Dico sicuramente ci dobbiamo trovare tutti pronti anche i ragazzi quando conosciuti mi sembrano tutti ragazzi bravi, forti e c'è tanta voglia quindi speriamo che ci mettiamo tutti d'accordo su campo e che io posso poi fare i gol. La mia promessa è che do sempre il massimo, poi i gol vediamo non voglio fare i conti ma la mia promessa è che do sempre il massimo per la squadra. Grazie a tutti.